Ciao a tutti, scusate un po' la vettinatura ma stiamo facendo comizi in tutta Italia, ci stiamo credendo molto perché comunque entriamo in tante parti, ci giochiamo la vittoria, i ballottaggi in tante parti il Movimento 5 Stelle sta crescendo nonostante abbiamo tutti quanti contro però sono tutti quelli che hanno raso al suolo questo paese per cui è anche un orgoglio avere contro questi personaggi il Movimento scende in piazza anche il 3 giugno, venerdì 3 giugno a Milano per sostenere appunto Gianluca Corrado, il nostro candidato sindaco a Milano anche a Milano possiamo fare un ottimo risultato, un grande risultato per cui scendete in piazza, ci si vede all'arco della pace vicino appunto Piazza Sempione alle 18 di venerdì 3 giugno Viva il Movimento 5 Stelle e in bocca al lupo a Gianluca Corrado